La mia moglie 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 Potremmo avere una voce, potremmo avere un'operativa voce, potremmo andare in una chora o qualcosa. So, after that, I was in una chora, and I didn't know any notes, I didn't know anything about music, and I wanted to learn something, you know, what are these notes, what are these intervals, what is this? And I went to a piano, an interior teacher. I went to study some piano, an interior, and there was another student, piano student, which was much more advanced in playing than I was. And he said, so you sing in the choir? I said, yes, I sing in the choir. He said, so do you know this? I said, know what? And he started playing the music for Nessun Dorma. And I started singing, and the piano teacher who had just gone in the kitchen for some coffee, he came back, you know, he said, perhaps you have a voice which is more important than a voice in the choir, that you can do something more with it. and I said, that's, nah, I mean, how can that be? He said, well, would you agree, you know, to audition for Paul Ashak? Paul Ashak is one of the two, you know, famous multi-stunners of the 50s. And I said, yeah, but why? I'm sure I'm not in that league, I'm not in that material. But he convinced me, and I went to Paul, and he took me on. My signing with Ekka, ooh. Let's say I never, in my wildest dreams, imagined that it would happen so early, number one, and I never, in my wildest dreams, imagined that it would happen at all. So, for me, it was an enormous pleasure, but also an enormous responsibility. And when he told me that they had Maestro Chahi in mind for my disc, I was very nervous. But then I just got engulfed in this atmosphere of a whole group of people who actually wants you to do well at that. When I encountered Joseph Kalea for the first time, I thought that I was encountering a kind of new voice, a voice which could match the past tradition of old way of singing, of the, you know, the turn of the century, together with the taste of today's music making. And I think the combination makes a rare accent on Italian style. Of course, I was pleased and very flattered when Maestro Chahi said that my voice is reminiscent of the older generation. People don't expect to hear exactly that sound, but I think just a reminder of how that was, and just perhaps keeping the good things from that period, and perhaps discarding the exaggerations, is perhaps a refreshing aspect to public ones. of the older generation. L'Italian tenor aria è normalmente molto amata dal pubblico perché sono grandi cani e io credo che Giuseppe conosce che apprezzo a questa tradizione lunga e questa è una ragazza di più di provare qualcosa di diverso, di riuscire il so-called stereotipo di quello che ha fatto prima. E penso che questo è un problema per lui e per me, per il Chorus e l'Orchestra Verdi di Milano. Mi piace Donizetti. Penso che la mia voce a questo momento è molto buona per il reperto. Bellini, anche. Verdi, cose come Traviato, Riccoletto, niente più di più di questo. E poi l'idea di Veritazile, che è Pinkerton, il duke, in questo caso. Giuseppe è un bellissimo personale e sempre molto positivo e dispostante. E credo che possiamo essere molto felice con il range di diversi styles che abbiamo per un record di debut come questo. Questo è molto raro per un artiste che faceva così diversi styles in un CD. Quindi è stato molto divertente fare questo e questo. Mi sono stati nervi a alcuni punti, mi sono stati molto freddo in altri punti. Ma in fine l'esperienza è davvero fantastico. E ho spero che il ragazzo di vivere questo CD. Cattopolo è una della storia di vivere dell'azienda, nel sino che è un'esperienza di vivere. È bella così, la storia di vivere. È bella così, la storia di vivere. Quanto è bella, quanto è clara, più la vedo e più mi piace, ma in quel cor non so il capace, lievi affetto d'inspira, in quel cor non so il capace, lievi affetto d'inspira, in quel cor non so il capace, lievi affetto d'inspira, lievi affetto. In quel cor non so il capace, non so il capace, lievi affetto d'inspira, con la voglia, comebali affetto d'inspira, non so o che io, quello c'è tutta d'inspira, non so il solito è worko, non so io, 케,